Era salita in alto piano con l'intento, vista la bella giornata, di raccogliere noci, ma nel farlo è scivolata, procurandosi una probabile frattura. Disavventura nel pomeriggio per una donna di 57 anni, iniziali RP, risiede a Tezze sul Brenta, mentre si trovava nei boschi sopra Santa Caterina di Lusiana. L'infortunio che ha comportato la probabile frattura di una gamba è avvenuto intorno alle 15.45. I compagni della mai capitata hanno avvertito il 118, la centrale del suo è maldertato a suo volto il soccorso alpino di Asiago. Una squadra si è avvicinata in jeep per poi seguire a piedi uno dei compagni che aspettava sulla strada dell'infortunata. Una volta raggiunti i soccorritori, dopo averla riscaldata perché infreddolita, dallo stare seduta a terra, li hanno immobilizzato la gamba, l'hanno caricata in parella, trasportata per una ventina di minuti fino all'ambulanza partita in direzione ospedale di Bassano.